I dati ARPAV relativi agli ultimi giorni indicano una persistenza di alti livelli di inquinanti PM10 e PM2 e 5 nell'area dell'agglomerato urbano di Vicenza che comprende anche il comune di Arzignano. Con il superamento del valore limite 50 microgrammi per metro cubo per diversi giorni scatta il cosiddetto livello di allerta 1 arancione e, come si evince dal sito web dell'ARPAV, la previsione per i prossimi giorni dei livelli di concentrazione di PM10 nel territorio del comune di Arzignano si attestano su valori superiori a 50 microgrammi per metro cubo. Inoltre le prospettive anche meteorologiche sono per i prossimi giorni di persistenza di alta pressione. Per questo anche il comune di Arzignano ha il dovere di intraprendere misure antinquinamento e ha emesso un'ordinanza in base alla quale fino alle 24 del 1 febbraio 2018 è vietato l'uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, compreso il pellet, di classe inferiore alle tre stelle, qualora nell'abitazione siano presenti altri impianti termici alimentati a gas, metano o gpl. È una misura necessaria che si adegua alle direttive del tavolo tecnico zonale determinata dalla situazione di persistente inquinamento dell'aria, dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. Il senso dell'ordinanza, continua il primo cittadino, si inserisce in una tradizione di attenzione all'ambiente, agli inquinanti e in particolare alle polveri sottili da parte della nostra amministrazione. Per ragioni professionali, in tempi non sospetti, continua Gentilin, già nell'inverno del 2001 avevo lanciato l'allarme sulle polveri sottili, sulle loro implicazioni e sulla pericolosità della persistenza di nebbia ed alta pressione. Inviterei i cittadini a non interpretarla come una grida manzoniana, perché penso che ognuno nel suo piccolo debba farsi carico della propria responsabilità. L'inquinamento dell'aria, conclude Gentilin, sta da anni generando un incremento significativo delle patologie respiratorie.